Un saluto a tutti, permettetemi di ringraziare tutti gli organizzatori di questo convegno, in particolare Nicola Vanacore per il prezioso e oneroso, oltre che paziente, lavoro profuso. Il progetto è stato presentato dalla Regione Molise, è stato redatto in collaborazione con la dottoressa Carla Severino della Regione Molise, la dottoressa Antonella Oriunno dell'ASREM, l'azienda sanitaria regionale Molise, che è anche referente amministrativo del progetto, e poi il sottoscritto Università del Molise, ma anche responsabile di un progetto assistenziale per conto dell'ASREM, appunto proprio sulle demenze. L'obiettivo generale del progetto è il potenziamento della diagnosi precoce di MCI e lo sviluppo di una carta del rischio cognitivo per la pratica clinica. Come già detto anche dalla relatrice che mi ha presentato, sostanzialmente il Molise fa parte delle quattro regioni che hanno deciso di collaborare proprio per la stesura di una nuova carta del rischio cognitivo e eventualmente contribuire anche agli algoritmi di machine learning di cui avete sentito parlare. Ma probabilmente nell'arco di un anno noi non ci riusciremo, per cui il risultato atteso alla fine di questo anno è un aumento del numero di pazienti con diagnosi di MCI nella regione Molise, ovviamente per brevità evito di parlare delle altre cose proprio per mantenermi nei tempi. Il progetto ha sei obiettivi specifici, il primo è questo, il coinvolgimento attivo dei medici di medicina generale, l'individuazione e nell'invio quindi ai CDC regionali degli assistiti con MCI e a questo scopo abbiamo programmato due eventi formativi accreditati per medici di medicina generale e per altri operatori coinvolti nella gestione dei pazienti con demenza, uno il 15 ottobre a Campobasso, l'altro il 22 ottobre a Isernia e nel corso appunto di questi eventi i medici di medicina generale verranno invitati a utilizzare la CPCOC per la valutazione e l'individuazione dei pazienti con MCI, alcuni strumenti semplici per la diagnosi del disturbo soggettivo, ovviamente l'invito è quello di inviare tempestivamente questi assistiti al CDCD e condividere con i CDCD tutti quelli che sono i dati anamnestici, clinici, laboratoristici, preferibilmente attraverso per via telematica. I risultati attesi sono quelli di una partecipazione numerosa dei medici di medicina generale e degli altri operatori a questi eventi ECM e l'incremento del numero di pazienti con MCI inviati ai CDCD. L'obiettivo specifico numero due è sia il potenziamento dell'unico CDCD presente nel Molise di Campobasso, almeno che risponde appunto alle caratteristiche dettate dal Ministero, e l'istituzione di un nuovo CDCD a Venafro. Su questo punto probabilmente la sede verrà spostata a Isernia, perché le associazioni locali sostanzialmente hanno insistito affinché si istituisse a Isernia. Ma in ogni caso entro la fine dell'anno quindi verrà istituito questo nuovo CDCD e è stata avviata l'iter burocratico per l'attivazione di una serie di borse di studio proprio per implementare il personale sia in servizio al CDCD di Campobasso sia del nuovo costituendo CDCD e quindi sono previste varie figure professionali, due medici, tre neuropsicologi e un infermiere. Oltre ovviamente all'acquisto di tablet e di PC proprio per la raccolta delle informazioni in formato appunto digitale, quindi inclusi vari test oltre a tutte le informazioni cliniche. Nell'organizzazione delle attività presso i CDCD verranno coinvolte le associazioni locali per i malati di Alzheimer. I risultati altesi sono l'incremento del personale in servizio presso i CDCD di Campobasso e la creazione di un nuovo CDCD a Benafro. L'obiettivo specifico numero tre è la raccolta delle informazioni anunestico, clinico, strumentali, laboratoristiche dei pazienti afferenti ai CDCD molisani attraverso una cartella clinica informatizzata. Nel Molise c'è un fascicolo sanitario elettronico che è in essere già da qualche anno e ovviamente l'obiettivo è quello di implementare questo fascicolo, di apportare le opportune modifiche tenendo presente anche la struttura delle cartelle cliniche come quella del Lazio e tenendo conto del minimum dataset di cui parlava la dottoressa Russo che mi ha preceduto al fine che tenga conto ovviamente dei vari fattori di rischio cognitivo e che serve appunto poi per una nuova cartella del rischio cognitivo, una nuova carta appunto del rischio cognitivo e questo minimum dataset è stato concordato appunto con le quattro regioni che hanno deciso di collaborare nell'ambito della linea progettuale uno. I risultati attesi, l'incremento delle cartelle informatizzate, quindi poi il progressivo abbandono del formato cartaceo. L'obiettivo specifico numero quattro, la standardizzazione e condivisione di un protocollo per la diagnosi di ANSIA e questo come avete sentito anche dai relatori che mi hanno preceduto, questo è estremamente importante in modo da omogenizzare le attività che si svolgono, incluse le attività diagnostiche, i protocolli neuropsicologici e quant'altro che vengono svolti appunto nei cdcd molisani. Particolare attenzione verrà dedicata alla ricerca di eventuali cause reversibili di demenze. Risultato atteso, l'incremento delle diagnosi di ANSIA e secondo un protocollo condiviso e standardizzato. L'obiettivo specifico cinque, l'individuazione dei soggetti a rischio di conversione e sviluppo di una nuova carta del rischio cognitivo per la pratica clinica. Come detto prima, questo in prospettiva futura in realtà verranno semplicemente gettate le basi per questo sviluppo futuro della carta del rischio cognitivo nell'anno che abbiamo a disposizione, però nel frattempo verranno utilizzate le carte attualmente validate, quindi pubblicate in letteratura per l'individuazione dei soggetti con ANSIA e il rischio di conversione sui quali appunto intraprendere un percorso di trattamento e prevenzione strettamente personalizzati. Il risultato atteso è l'incremento dei pazienti sottoposti a programmi di prevenzione. E infine, in ultimo, l'obiettivo specifico sei, quindi la selezione di un campione rappresentativi di pazienti con MCI da sottoporre ad ulteriori indagini laboratoristiche strumentali, come avete sentito dalla relazione precedente, una serie di altre indagini su un campione massimo di 30 soggetti, sui quali da sottoporre appunto ulteriori indagini come per esempio l'RM volumetrica, la PET per amiloide, esame liquorale e con la ricerca appunto di particolari marcatori, tutte queste indagini verranno concordate appunto con le altre regioni che hanno deciso di collaborare nell'ambito dell'area progettuale 1 proprio per la messa a punto di questi algoritmi di machine learning per produrre con un maggiore livello di accuratezza quali pazienti sono a rischio di conversione a demenza. Bene, io vi ringrazio, sono stato abbondantemente nei tempi.